Moientale Majestic, una chitarra strepitosa, favolosa, veramente, caratteristiche da super pro. Me l'ha prestata e ci farò una grandissima recensione, restate incollati a YouTube e se non lo siete iscrivetevi pure al mio canale, così vediamo un po' questa chitarra di Moientale, cosa ha da offrire e ne ha di cose da offrire. A presto, ci vediamo!